Il modello Rolex Unmariner è prodotto sia con data che senza. È molto raffinato, portabile in ogni occasione, mantenendo sempre la particolarità di un orologio concepito per le immersioni. È per questo che fu indossato agli inizi degli anni 60, per la prima volta sugli schermi, da uno dei più grandi interpreti del ruolo dell'agente 007, Sean Connery. Il movimento a carica automatica con rotore perpetual è dotato di certificato di cronometro ufficiale svizzero. La corona è triplo, a tripla sicurezza ed è protetta da innovative spallette ricavate direttamente dalla cassa senza saldature. Il datario è a scatto rapido e può essere corretto con facilità. Il bracciale, dello stesso materiale della cassa, è corredato di fermaglio flip lock con blocco di sicurezza e con lamine di prolunga, per essere indossato anche su una leggera muta da immersione. Il vetro è in zaffiro sintetico molto resistente. Il Rolex Submariner esiste in acciaio, in acciaio oro o in oro. Il modello è garantito impermeabile fino a 300 metri.